Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuovo video a tema Harry Potter, ma prima di cominciare vi ricordo che su Pampling, utilizzando il mio codice sconto 7Potter, avrete sempre un paio di calzini in omaggio con ogni acquisto, il codice di utilizzabile è cumulabile con tutte le iniziative in corso di Pampling. Su Pampling potrete acquistare magliette, calzini, zaini, cover, penne, di tutto e di più a tema nerd, come la maglietta a tema Harry Potter che indosso io oggi, e ragazzi naturalmente trovate tutti i link sotto in info box, trovate anche il link per la mia vetrina Amazon, dove ho selezionato tantissimi prodotti a tema Harry Potter e non solo, e acquistando qualsiasi cosa tramite i miei link aiuterete il canale a mantenersi, quindi grazie in anticipo. E ragazzi, oggi unboxing Amazon e poi un prodotto che ho beccato su Vinted e che non vedevo l'ora di mostrarvi perché sono super super contento. Ragazzi, il primo è un mio ordine Amazon, eccolo qui, di una cosa che sinceramente non pensavo che avrei mai acquistato, invece alla fine mi sono lanciato e speriamo sia andata bene. Perché, come avrete visto dalla copertina, si tratta della borsa di ermione. Borsa di ermione che è in vendita da tantissimo tempo, ma che ho sempre messo un po' da parte, ho sempre preferito prendere altre cose prima di quella, perché direi che non è proprio uno dei pezzi fondamentali di una collezione, magari una collezione che è stata avviata da poco. Mentre ormai, io essendo abbastanza navigato, mi sto cominciando ad avventurare anche verso roba un po' più strana, tra virgolette. E ragazzi, eccola qui, ok, abbiamo una montagna di carta e poi eccola qui, wow, è enorme, ok, ok, ragazzi, ok, ok, non me l'aspettavo, ma è abbastanza grande. Io la pensavo almeno la metà di questa, la foto su Amazon non rende per niente. Questa è la borsa di ermione, versione Noble Collection, naturalmente, che si sta lanciando in queste nuove scatole morbide, che però non fanno abbassare i prezzi. Quindi, vabbè, hanno solo risparmiato, perché prima le scatole Noble Collection erano decisamente più sofisticate, eleganti e resistenti. Questa borsa, ragazzi, costa tanto. Io l'ho cercata per molto tempo su Vinted, ne ho trovate un paio, ma venivano vendute praticamente al prezzo di Amazon, e quindi usata a quel prezzo non aveva senso, e alla fine ho ceduto e l'ho comprata nuova. Ed è costata 55€, quindi praticamente quanto una vera borsa, più o meno. E questa cosa è una di quelle che mi ha sempre frenato. Perché una borsa, un po' di stoffa, 55€? Magari essendo io uomo, acquistando borse, non sono nell'ottica di questo tipo di spesa, quindi sicuramente sono io anche fuori target. Però non riuscivo bene a comprenderne il perché, visto che altre cose costano tanto quanto, ma sono realizzate magari in metallo, in vetro, eccetera, eccetera. Però adesso, vedendola, avendola qui tra le mani, vi dirò, ragazzi, è davvero ben fatta. Ci sono tantissime cuciture, tantissime perline, c'è anche una parte qui in basso che sbuca da sotto la scatola, e quindi adesso la andiamo ad aprire e vediamo più nel dettaglio com'è. Ok, c'erano mille mila pezzi di scotch anche sulla base, non riuscirò mai a tirarla fuori, ragazzi. È un'impresa praticamente persa in partenza, avrei dovuto farlo prima di mettermi a registrare. Ma perché provare le cose, perché andare a provare a scrivere i testi dei video, ma no, tutto improvvisato, così poi succedono queste cose. Ok, ci siamo, finalmente ci siamo. Ragazzi, eccola qui. Ecco qui sotto nella parte bassa che abbiamo anche questo pennacchio, questa specie di... non so come si chiama. E... mappina, moppina, non lo so. E... ragazzi, questa è la borsa. Hanno deciso di attaccare qui di fianco tutto il libretto con gli oggetti Noble Collection, cosa che non condivido, quindi adesso la andiamo a togliere. Ok, che fastidio. E... eccola qui. Potrei andare a sciogliere qui il nodo che è stato fatto da Noble Collection, ma sinceramente non lo farò, perché all'interno è semplicemente riempita con della carta. L'ho già vista anche su internet, su altri video, quindi c'è della carta bianca che va a mantenere la forma così appallottolata della borsa. E... ragazzi, è molto semplice, però devo dirvi che tutte queste perline messe qui nel fondo, tutte le perline cucite qui sui bordi della borsa, le cuciture, e anche questi pompon qui alla fine dei laccetti che servono per tenere la borsa, in teoria, quando è slegata. Beh, devo dire che sicuramente c'è un gran bel lavorone dietro. Non è così semplice come sembra dalle foto, è ben realizzata, i materiali sono molto belli al tatto. So che questa è la seconda versione, Noble Collection ne aveva già fatta una nel 2012, 2010-2012, con materiali ancora più pregiati, che infatti si riesce a trovare usata intorno ai 100€, ma io sinceramente non volevo spendere tutti questi soldi, e quindi mi accontento della nuova versione, della 2.0, che magari ha dei materiali un po' più economici, però già va bene così, visto che comunque la stiamo pagando oltre 50€. Ragazzi, ve la consiglio? No, ve la consiglio sì, se avete già una collezione ben avviata, ve la consiglio no, se avete tante altre cose ancora da recuperare, perché con 55€ ci comprate la giratempo, ci comprate ad esempio il medaglione di serpeverde, cose che danno molta più soddisfazione, soprattutto all'inizio. Bene, detto questo, mettiamo da parte la borsa di Hermione, la mettiamo qui, e poi voglio mostrarvi una cosa che invece ho trovato su Vinted, una cosa che avevo visto al Warner Bros. Studio Tour, costava una fucilata, non l'ho presa, e so che è in vendita anche a Orlando, si può trovare solo in questi due posti, e forse si trova anche sul sito Warner Bros. Studio Tour, ma non sono sicuro. Di cosa si tratta? Si tratta di questa mappa qui, che appunto su eBay l'ho visto soltanto intorno ai 60-70€, comprarla sul sito Warner Bros., qualora fosse presente tra dogana, spedizione e prezzo di costo, si arriverebbe comunque a quella cifra lì, mentre invece su Vinted l'ho pagata meno. E quindi non l'ho pagata pochissimo, l'ho pagata meno, però ero molto curioso di provarla, e infatti credo che la rivenderò una volta fatto questo video, allo stesso prezzo che l'ho pagata io. Quindi qualora foste interessati, magari la trovate sotto in infobox, nel mio link di Vinted. E si tratta della mappa del malandrino, mappa del malandrino interattiva. Io già la possiedo, mi è stata regalata da uno di voi, e non me ne separerò mai, quella lì è la mia mappa del malandrino, la replica Noble Collection ufficiale, ed è tutta in carta. Questa qui è parte in carta, parte invece rigida, perché naturalmente, essendo interattiva, conserva al suo interno tutte le varie parti meccaniche, led, batterie, eccetera, eccetera. Ma adesso andiamo ad aprirla e la guardiamo assieme. All'interno troviamo il libretto delle istruzioni, e poi troviamo anche una bacchetta con la punta calamitata. Questa bacchetta molto simile alla prima versione della bacchetta di Harry, e poi abbiamo la mappa del malandrino. Questa parte qui superiore è in carta, quindi la possiamo andare ad aprire, e anche questa parte qui è tutta in carta, quindi comunque è una buona replica della mappa del malandrino. È ufficiale, Warner Bros, ci mancherebbe altro. Ma la cosa interessante è sul retro, che invece è in plastica stampata. Abbiamo sul retro questo vano, che è quello per le batterie, con lo switch on-off, e poi sotto abbiamo tutte le licenze, Warner Bros, eccetera, eccetera. Andiamo ad attivare lo switch delle batterie. Ecco come funziona. Qui nella parte in alto abbiamo un piccolo sensore con scritto, giuro solennemente di non avere buone intenzioni. Mentre da questa parte abbiamo un altro cerchietto, quindi un altro sensore, con scritto, fatto il misfatto. Nella parte bassa, invece, abbiamo dei nomi. Abbiamo Dumbledore, abbiamo Harry, Hermione, Ron e Snape. Quindi abbiamo i vari personaggi. Ma adesso vediamo come si avvia la mappa. Naturalmente si prende la nostra bella bacchetta magnetica e si punta sul giuro solennemente di non avere buone intenzioni. Come avete sentito, è partito un suono. E questo suono ci avvisa che la mappa è pronta. Adesso non ci resta che andare a poggiare la nostra punta della bacchetta su uno dei personaggi. Andiamo ad esempio su Silente. e quindi lo troveremo magari nella zona del suo ufficio. Ed ecco qui. Poggiamo qui. Ed ecco che vediamo i passi apparire sulla mappa. Possiamo anche vedere dove è Ron. Ecco qui. Ci sono apparsi i passi di Ron in basso. Hermione, Snape, anche più contemporaneamente ne possiamo attivare. Harry. Come vedete, abbiamo sia un feedback audio dei passi che è anche luminoso. I passi appaiono sulla mappa. Quindi io la trovo davvero molto molto carina. Ovviamente, una volta finito di giocare con la nostra mappa del malandrino, non ci resta che puntare la bacchetta, la punta, verso Fatto e Misfatto. Ed ecco che tutto si bloccherà e i passi spariranno dalla nostra mappa. È davvero molto molto carina, molto ben realizzata. Secondo me è un bel pezzo da avere in collezione, qualora non si avesse già la mappa cartacea, quindi quella originale di Noble Collection in scala 1 a 1 come questa, ma solo cartacea. Quindi questa è una sorta di mappa ibrida che è ben fatta, è davvero molto ben fatta e secondo me vale il prezzo che viene richiesto lì sul posto. Trovarla qui è abbastanza difficile, infatti l'ho acquistata subito di impulso perché volevo mostrarvela assolutamente anche a voi. Bene, detto questo, ragazzi, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione, spero di avervi tenuto 10 minuti di compagnia, spero di avervi fatto scoprire un nuovo prodotto interessante e niente, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se vi piace di più questa versione o quella totalmente cartacea, io non vedo l'ora di leggere i vostri commenti, mi raccomando, seguitemi su Instagram Antonio.seria, commentate, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, tutte le solite belle cose e io vi do appuntamento a prestissimo con tante altre novità. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!